Percy. Percy ripensò a quanto era stata pericolosa Kelly l'ultima volta che avevano combattuto nel labirinto. Nonostante quelle zampe male assortite, sapeva muoversi rapidamente se lo voleva. Aveva schivato tutti i suoi colpi e gli avrebbe divorato la faccia se Annabeth non l'avesse pugnanata. E ora aveva anche quattro amiche con sé. E c'è pure la tua amichetta Annabeth, similò Kelly con una risata. Oh sì, me la ricordo bene. Si toccò lo sterno, da dove era uscita la punta della lama quando Annabeth l'aveva colpita alle spalle. Che succede figlia di Atena? Sei disarmata? Oh che seccatura! Ti avrei ucciso volentieri con il tuo stesso pugnale! Percy cercò di ragionare. Lui e Annabeth erano spalla contro spalla, come tante altre volte in passato, pronti a combattere. Ma nessuno dei due era nelle condizioni migliori per farlo. Annabeth era disarmata. Erano in netta inferiorità numerica. Non sapevano dove fuggire. Non c'erano soccorsi in arrivo. Per un attimo valutò la possibilità di chiamare la signora Olleri, il segugio infernale capace di viaggiare attraverso le tenebre. Ma se anche avesse sentito il richiamo, sarebbe potuta entrare nel tartaro. Quello era il luogo in cui finivano i mostri quando morivano. Chiamandola, forse ne avrebbe decretato la morte. E lei sarebbe tornata al proprio stato naturale di mostro feroce. No, non poteva fare una cosa del genere al suo cane, si disse. Perciò zero aiuti. Ne combattere. Era un rischio troppo grande. Restava solo la tattica preferita di Annabeth. Raggirare, tergiversare, guadagnare tempo. Allora, cominciò Percy. Immagino che ti chiederai che cosa ci facciamo qui. Kelly fece un verso di scherno. No, voglio soltanto uccidervi. Sarebbe finita lì, ma intervenne Annabeth. Peccato. Non avete idea di quello che sta capitando nel mondo mortale. Le altre impuse strinsero il cerchio, osservando Kelly in attesa di un segnale per attaccare. Ma l'ex cheerleader si limitò a ringhiare, acquattandosi fuori dalla portata della spada di Percy. Ne sappiamo abbastanza, replicò. Già ha parlato. State andando incontro a una clamorosa sconfitta. Annabeth lo disse in un tono così sicuro che perfino Percy ne rimase colpito. Guardò le impuse a una a una, poi puntò contro Kelly un dito accusatorio e si rivolse alle altre. Lei sostiene di guidarvi alla vittoria, ma mente. L'ultima volta che è stata nel mondo mortale, Kelly aveva il compito di far sì che il mio amico Luke restasse fedele a Crono. Alla fine Luke l'ha ripudiato. Ha dato la vita per distruggere Crono. I titani hanno perso, perché Kelly ha fallito. E ora quella stessa Kelly vuole condurvi a un disastro. Le impuse borbottarono a disagio. Basta! Le unghie di Kelly si distesero in lunghi artigli neri. Puntò lo sguardo malevolo su Annabeth, come se la immaginasse già a pezzettini. Percy era abbastanza certo che lei avesse una cotta per Luke, che faceva sempre questo effetto sulle ragazze, perfino se erano vampire con le zampe d'asino. Temette che aver tirato fuori il suo nome non fosse una buona idea. La ragazza mente, dichiarò Kelly. E così titani hanno perso. Bene, faceva parte del piano per risvegliare Gea. Ora la madre terra e i suoi giganti distruggeranno il mondo mortale. E noi banchetteremo con la carne dei semi dèi. Le impuse digriniarono i denti in un impeto di entusiasmo. Una volta Percy si era trovato in mezzo a un banco di squali, con l'acqua piena di sangue. Non era niente in confronto a quelle cinque vampire fameliche pronte a sfamarsi. Si preparò ad attaccare? Ma quante avrebbe potuto ucciderne prima di cadere? Non abbastanza. I semi dèi si sono uniti, urlò Annabeth. Fareste meglio pensarci su due volte prima di attaccarci. Romani e Greci vi combatteranno insieme. Non avete nessuna possibilità. Le impuse arretrarono di qualche passo, innervosite. Romani! Si bilarono. Percy intuì che avevano avuto qualche esperienza con la dodicesima legione e che non era finita bene per loro. Sì, Romani! Ci potete scommettere! Si scoprì il braccio e mostrò il marchio che aveva ricevuto al campo Giove. Le lettere SPQR, il tridente di Nettuno. Mettete insieme Greci e Romani? E sapete cosa ne viene fuori? Un macello, ecco cosa! Batte un piede a terra e le impuse arretrarono ancora, intimorite. Una cadde giù dal masso su cui si era appollaiata. Una soddisfazione, ma si ripresero in fretta e il cerchio si strinse di nuovo. Bel discorso, commentò Kelly. Audace per due semidei smarriti nel tartaro. Abbassa la spada, Percy Jackson, e ti ucciderò in fretta. Credimi, ci sono modi peggiori di morire in questo posto. Aspetta! Annabeth fece un altro tentativo. Le impuse non sono al servizio di Ecate. Kelly fece una smorfia. E allora? Ecate è dalla nostra parte ora, continuò la figlia di Atena. Anche lei ha una casa al campo mezzo sangue. Alcuni dei suoi figli semidivini sono miei amici. Se combattete contro di noi, si arrabbierà. Percy avrebbe voluto abbracciarla. Quella ragazza era un genio. Una delle altre impuse ringhiò. È vero, Kelly? La nostra signora ha fatto la pace con l'Olimpo? Chiudi quella bocca, Serefone! strepitò Kelly. Santinumi, che scocciatura! Io non contrarierò la nostra oscura signora. Annabeth colse al volo quella possibilità. Dovreste ascoltare tutte Serefone. È più antica e più saggia. Sì! strillò Serefone. Seguite me! Kelly colpì così in fretta che Percy non ebbe il tempo di sollevare la spada. Ma non aveva credito il semidio, bensì Serefone. Per mezzo secondo le due demoni furono un groviglio confuso di unghie e zanne. Poi finì. Kelly si ergeva trionfante sopra un mucchio di polvere, con i brandelli della veste di Serefone fra gli artigli. Se altro, scattò, folgorando le sorelle. Ecate, è la dea della foschia! I suoi modi sono misteriosi. Chissà quale parte avrà i suoi favori. È anche la dea degli incroci e si aspetta che ognuna di noi faccia le proprie scelte. Io scelgo la strada che ci porterà più sangue semidivino. Io scelgo Gea! Le altre si vilarono in approvazione. Annabeth lanciò un'occhiata a Percy e lui capì che era corto di idee. Aveva fatto il possibile. Aveva indotto Kelly a eliminare una sua compagna. Ormai non restava altro che combattere. Per due anni ho volteggiato nel vuoto, disse Kelly. Hai idea di che seccatura sia essere disintegrati Annabeth Chase? Di quanto sia doloroso riformarsi a poco a poco? Attendere mesi e anni che il corpo ricresca? Poi rompere finalmente la superficie di questo luogo infernale e strisciare sugli artigli per riconquistare la luce? E tutto questo perché una ragazzina mi aveva pugnalato alle spalle? Il suo sguardo malefico sostenne quello di Annabeth. Chissà cosa succede quando un semidio viene ucciso nel tartaro. Dubito che sia mai capitato. Scopriamolo! Percy partì alla carica, disegnando un ampio arco con vortice. Tagliò un'impusa in due, ma Kelly lo schivò e aggredì Annabeth. Le altre due vampire si lanciarono su Percy. Una gli afferrò il braccio con cui reggeva la spada, l'altra gli balzò le spalle. Lui cercò di ignorarle e avanzò barcolando verso Annabeth. Se proprio doveva morire, l'avrebbe fatto difendendo lei. Annabeth però se la cavava bene. Evitò gli artigli di Kelly lasciandosi cadere a terra e si rialzò con in mano un pezzo di roccia che abbatté sul naso dell'impusa. Kelly ululò dal dolore. Annabeth raccolse una manciata di polvere e sassi e gliela lanciò negli occhi. Nel frattempo Percy cercava di scrollarsi di dosso l'impusa che gli si era grappata sulle spalle, mentre l'altra lo teneva per il braccio, impedendogli di usare vortice. Con la coda dell'occhio vide Kelly che affondava gli artigli nel braccio di Annabeth, lasciando un graffio profondo. La figlia di Athena gridò e cadde. Percy cercò di correre da lei, ma l'impusa che aveva sulle spalle gli affondò i denti nel collo. Un dolore lancinante lo percorse in tutto il corpo. Gli cedettero le ginocchia. «Resta in piedi», si disse. «Devi sconfiggerle». Poi l'altra impusa lo morse sul braccio e vortice cadde a terra. Era la fine. La fortuna li aveva abbandonati. Kelly si stagliava minacciosa su Annabeth, assaporando l'attimo di trionfo. Le altre due impuse si muovevano in cerchio intorno a Percy, con la bava alla bocca, pronte per un altro assaggio. Poi un'ombra calò all'improvviso. Un grido di guerra, profondo e potente, riecheggiò sulle pianure del tartaro. E un titano piombò sul campo di battaglia.